Buongiorno amici lettori, eccomi tornata con un altro consiglio di lettura. Jan Brocken, l'anima della città per Iperborea. Iperborea è una casa editrice a cui tengo tantissimo, ho avuto modo di parlare con gli editori, hanno un progetto editoriale bellissimo, si dedicano soprattutto alla grande letteratura del Nord. In questo caso, quest'autore scrive e racconta di vari personaggi importanti, conosciuti e anche meno conosciuti di tutto il Nord Europa, e di alcuni loro aneddoti, alcuni percorsi. Quindi ve lo consiglio caldamente, vi voglio leggere un pezzettino. Una raccolta di brevi storie tra il reportage e l'acquerello, che ci fanno comprendere il legame indissolubile tra la creazione e il luogo dove si origina, e che insieme tratteggiano il percorso di formazione artistica e umana di grandi personaggi, e sempre da un particolare, da un dettaglio spesso sfuggito ai biografi, dall'osservazione di uno scorcio, che Broken riesce a creare un itinerario inconsueto attraverso strade già battute, perché il viaggio non sta nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. L'anima della città, vi raccomando, leggiamolo insieme. A presto, ciao!